Buongiorno tesorucci, ecco la seconda parte del mio decluttering barra collezione di palette anche in questa parte abbiamo un bel po' di palette quindi vi dico già che ce ne saranno ben tre tre parti, Tarchino saluta? No, Ares saluta? No, ok andiamo subito avanti ok si parte, speriamo di essere veloci, mi sono munita di carta per togliere la polvere, salviettire e cellulare per vedere l'ora che sono esattamente le 9 e 18, non sto a scherzare, di venerdì 26 gennaio praticamente quando lo caricherò sto girando col cellulare vecchio, vi dico anche questo perché mi sono tolta uno sfizio, mi sono presa le 6 e 23 ultra approfittando di un'offerta l'ho pagato 887, me l'hanno rimesso a 1200, nonostante sia uscito l'S24 ma chi se ne prega, mi sono voluta fare un regalino, però siccome l'aggeggino che sto usando per il cellulare rovina lo schermo, continuano a girare con quello vecchio, quindi andiamo subito al video allora, fiatona parte, come vi ho detto ci sarà un'altra parte perché ho tante palette dentro box di Sephora cioè le scatole di Sephora, dentro degli organizzatori di plastica, dentro tante cose, quindi le devo tirare tutte fuori e andiamo, andiamo avanti, allora, cosa possiamo tirare fuori? Iniziamo da queste davanti non sono in ordine fra brand come l'altra volta, cerchiamo di essere un po' ordinate, dai a suo giro andiamo con Anastasia, se le trovo tutte vi dico anche che ho venduto, cioè sono già riuscita a vendere due palette finalmente ho venduto con la palette di Tarte che vi dicevo che Vinter mi aveva bloccato il profilo perché era usata, che poi, come ho già detto, l'avevo usata sì e no forse una o due volte, o nemmeno sono riuscita a venderla e ho venduto anche la palette di Beauty Bay, la Jade, quella nuova che avevo detto che l'avevo comprata, che mi piaceva tanto quei due verdi però potevo tenerla solo per quei due, alla fine allo stesso giorno l'ho messa in vendita e me l'hanno comprata quindi va bene allora, due palette che mi saltano qua all'occhio di Anastasia che ho messo in vendita e che voglio vendere sono queste due mini erano tre mi pare, questa è la volume 1, la volume 2 e la volume 3 la volume 3 sono riuscita a venderla la volume 1, se non ricordo male, è quella che non ho mai toccato anche questi fanno parte di ordini fatti così, tanto per, perché avere Anastasia Beverly Hills fa figo alla fine, non l'ho mai usata, guardate che c'è ancora il cosino nello specchietto i colori sono ancora integri, mai mai, perdonate il termine, sverginati non l'ho mai swatchati e sono sicura che questi due sono bellissimi perché gli shimmer sono spettacolari ma i matti mi annoiano quindi questa l'avevo messa in vendita forse a 20 euro mi pare perché è nuova ed è una palette che forse a prezzo pieno costa 30... non vuole dire una cacchiata, 36, 39, non mi ricordo, devo andare a vedere comunque sulle 30 euro, io l'avevo messa a 20 anche perché io ho la cosa, lo sconto sui set quindi se uno acquista più di una palette ha lo sconto quindi vanno a pagare ancora di meno le palette che compiono quindi questa raga l'ho messa in vendita non so se Vinted mi ha cancellato l'annuncio che devo andare a vedere nel caso comunque la rimetto in vendita quindi questa declatterata, mettiamola sempre qua poi abbiamo la volume 2, questa forse l'ho usata due o tre volte infatti l'avevo messa in vendita ancora meno perché ovviamente l'ho usata, quella invece era nuova non mi ricordo però quanto, se l'avevo messa forse a 15 euro non lo so questa l'ho usata una volta sicuro, forse l'avrò usata due volte penso vista così e non ho usato nemmeno tutti i colori vedo che ho usato il giallo, questi due e basta ah e forse l'arancione, mi sembra leggermente toccato anche questa la rimetto in vendita perché? perché gli shimmer mi piacciono ma i matte non mi hanno mai fatto impazzire come vedete questa qua non ha nemmeno la cosina nello specchio perché pensavo di tenerla per l'estate però alla fine non mi ritrovo raga quindi lo spreco tenerla due già declatterate Subculture di Anastasia che non mi è mai piaciuta però mi sono puntata di usarla e i matte non mi piacciono per niente ma questo colore è bellissimo e poi cioè spesso mi ritrovavo ad usarla nel periodo invernale o autunnale quando non avevo tutte queste 300.000 palette cioè sì, l'avevo già tante quando l'ho comprata ma non così tante perché poi mi è andata come si dice la situazione mi è scappata di mano cioè guardandola ad oggi vorrei venderla vi dico il vero la venderei se non fosse che questo colore cioè si è un po' rovinato vedete che è tutto liscio cioè non si preleva e poi matte comunque già le polveri di Anastasia sono molto molto polverosi e si scavano in fretta e quindi vabbè è nulla me la tengo in teoria si bucano in fretta se le usi però quindi dove posso mettere? perché mi sono riempita tutto raga mi sono riempita tutto dove le metto? quelle che vi faccio già vedere boh qua poi Beverly Hills sì Beverly Hills non è il titolo la Prism questa era una limited edition poi vabbè io amo le palette in velluto che si lerciano e io sono una fissata con i cartoncini come vi ho già detto bellissima bella questa è stata la mia palette preferita per un po' anche se non sembra ma l'ho usata davvero tantissimo amo questi shimmer cioè li adoro li adoro li adoro al contrario dei matte che mi fanno cagare di queste palette perché tendono a fare macchia oltre il fatto che sono tanto polverosi cioè di norma gli ombretti polverosi sono sempre quelli di norma ma non sempre di norma sono quelli sempre più pigmentati e anche sfumabili invece questi sì sono pigmentati ma fanno macchia cioè poi magari non tutti eh però la maggior parte fa macchia e quindi non mi sono mai piaciuti ma gli shimmer sono una roba fenomenale modern renaissance presa perché qua su youtube tutti la di Cantauro bellissima se non hai la modern renaissance non sei nessuno alla fine io l'ho presa raga ma non mi è mai piaciuta più di tanto perché su di me è inutile cioè questi colori smortini c'è gente che l'ha comprata due o tre volte sta palette ma perché c'è alquanto inutile cioè sì carina da tutti i giorni ma a parte questi colori ti devono stare bene perché già su di me si vedono poco e nulla però vabbè avevo preso il dupe della Makeup Revolution non mi ricordo come si chiamava che se siete indecise è la tavoletta di cioccolata comunque se siete indecise se ancora non l'avete fatto fra questa e il dupe raga prendete il dupe perché anche quella è stupenda io l'avevo tenuta perché devo dirvi il vero mi piaceva di più quella su di me cioè aveva intanto scracciato perdone se vi è arrivato uno scraccio addosso vabbè comunque raga è valida molto valida anche quella della Revolution non mi ricordo però come si chiama mi dispiace e poi queste ve le faccio vedere dopo che sono quelle con la nuova formulazione Norvina non la volevo prendere all'inizio perché è viola io non sono un amante di viola ma addirittura c'è anche il pennello ma l'altra non aveva la plastichina perché non avevo la plastichina nell'altra vabbè stupenda stupenda non sono dei classici viola e poi guardandola bene non sono solo viola abbiamo anche qualche rosa qualche specie di doratino bella molto bella e i matte già qua hanno iniziato a piacermi un po' di più non so come mai ma li ho trovati più sfumabili nonostante comunque parliamo anche qua di colori non tanto chiari eh sì non sono scuri come magari un nero un grigio però già il viola non è un colore scuro bella 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 se non vi dico la tengo la do via perché ne tengo Jackie Hina anche questa una bellissima palette ma il pack non mi ha mai convinto cioè non mi piace squama sembra un serpente poi ho la fobia dei serpenti quindi figuratevi ma è una una palette una palette davvero bella 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 che però purtroppo non ho sfruttato tantissimo l'avrò usata anche qua forse 5-6 volte perché spesso magari la volevo prendere per i glittery cioè gli ombretti scimmerini ma non riuscivo magari a fare un look completo con gli altri matt quindi andavo ad attingere ad altre palette e mi fa passare la voglia quando le palette sono così devo dirvi la verità però rimane una bellissima palette poi arriviamo ah no abbiamo la saltri presa era uscita per un Natale forse io poi l'ho presa proprio all'ultimo quando la stavano svendendo infatti l'avevo pagata 30 euro più o meno bellissima nonostante la formula era più o meno la stessa perché io qua trovo una qualità ottima io che non amo i grigi mi piacciono tantissimo anche su di me sono bellissimi cioè sull'occhio sono uno spettacolo penso che addosso sono più belli sono molto più belli fanno gli occhi due gioielli cioè davvero spettacolare mi dispiace che non siete riusciti a prenderle a prenderla tutte e tutti perché era davvero una palette ottima anche per chi ama i colori caldi come me è davvero bellissima non può mancare stupenda poi ho due palette con la nuova formula e anche col nuovo pack ne ho altre ne ho altre ne ho altre due un'altra no ne ho un'altra che ho acquistato di recente che vi ho fatto vedere nell'all che vedrete poi nel terzo video perché fa parte anche essa di quelle palette che sono dentro le scatole dentro gli organizzatori di plastica eccetera eccetera quindi la vedrete la prossima volta e mi manca anche la cosmos raga che devo comprare assolutamente perché mi piace un botto comunque meno male che ho detto facciamo una cosa molto veloce la nuvo palette che raga gamma cromatica mi piace c'è lo schema colori è mio mi piace tantissimo il problema che addosso non mi piace non mi piace cioè questi verdi sono inutili su di me cioè a me piace tantissimo vederlo ma su di me non si vede raga non si vede potrei venderla sì però questo non l'ho mai toccato e magari questo poi è la morte sua cioè questo comunque è molto carino però la maggior parte di colori su di me non si vede questo è praticamente invisibile questo si intravede ma è inutile su di me questo matte pure però vorrei provarla ancora un po' di più ma non capisco perché molti l'amano raga perché su di me non si vede cioè non lo so l'unica parte che potrebbe salvare la palette è questa perché questo effettivamente su di me si vede spettacolare questo non l'ho mai usato dovrei provarlo questo l'ho usato sì si veducchia e questo non l'ho mai toccato quindi voglio provarla ancora un po' ma tornassi indietro non la ricomprerei non l'avendo perché appunto voglio voglio testare quei colori là ma non la ricomprerei devo dire la verità palette stupenda che mi ero fatta regalare come vi dico sempre io e la mia amica ogni volta ci diciamo cosa ti piace piacerebbe avere per compleanno per natale eccetera anzi no per natale abbiamo smesso di farci regali di natale perché io mo con i bimbi adesso con la bimba abbiamo un botto di regali da fare quindi ho detto senti non ce li facciamo più i regali di natale ce li facciamo solo per il compleanno e facciamo così cosa ti piacerebbe avere bla 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 e boh quindi è una palette che questa si chiama rose metals ma no raga ne mancano altre ne mancano altre vabbè scusate no allora non è la palette che vi dicevo la rose metals e un'altra della formula nuova quindi infatti sono qua le altre vabbè non è quella che mi ha regalato la mia amica avete capito sì nulla questa invece mi piace parecchio l'ho usata poco due penso due o tre volte molto bella non ha niente a che vedere con la nouveau ed è quella che era uscita nel cofanetto che vi dicevo che mi aveva comprato domenico per natale con i due mascara che poi alla fine al tatto sono riuscita a capire gli faccio guarda che se questa palette io ce l'ho già e alla fine poi aveva cambiato il coso e mi ha preso quella di Uda che mi aveva detto senti vieni con me perché per me sono tutto uguali eccetera eccetera perché la commessa mi ha detto che era nuova ma come va ad essere nuova se questa palette l'ha acquistata l'anno scorso vabbè e mo su sefora quel set costava lui l'aveva pagato 69 perché l'hanno fatto uscire per natale ma se l'ha trovata ancora è a 49 euro palette più i due mascarini provate a vedere quindi c'ho quella ma infatti non dimenticate altre abbiamo la I'm crazy presa dopo tanti anni che era uscita perché se cose da Barbie non mi convincono più di tanto su di me ma è meravigliosa raga io adoro Barb che è spettacolare anche Anastasia è molto carino ma Barb è qualcosa di stratosferico ma sono bellissime anche tutti gli altri meraviglia non ho il cartone perché lì a Moambra si mettevano a giocare con le palette e mi hanno scassato il cartone miseria e quindi questa rimane senza cartone vabbè questa è la palette la Prim la Prim Rose quella che vi dicevo che mi ha regalato la mia amica che non volevo prendere perché per foto mi sembrava molto simile alla Modern Renaissance e i colori non è che mi convincevano più di tanto quindi ho detto ma sì dai se me la regala lei va bene allora vi dico solo che dal vivo è ancora più bella che dalle foto perché nelle foto molte palette non rendono la qualità è stratosferica raga vi posso dire che questa è la mia palette preferita raga dell'anno 2023 non ho fatto il video è un video che comunque volevo fare ma questa è la prima palette in assoluto se riesco a farla ve lo faccio volentieri perché è bellissima raga sono colori sembrano apparentemente inutili ma va sicuro che non è così cioè i matt sono burrosi sono super pigmentati sono leggermente anche polverosi rispetto alle altre polveri quelle vecchie bellissime cioè i shimmer sono una roba fenomenale durano tutto il giorno i blush anche questi guardandoli così sembrano molto smortini ma va sicuro che invece sono bellissimi raga è una palette stupenda io la userei tutti i giorni vi dico solo che l'avevo usata quando me l'ha regalata poi di recente l'ho riusata per tre giorni consecutivi perché non è una palette che annoia raga perché è davvero bella poi ho detto no basta dai non voglio consumarla poi c'ho altre palette però è veramente raga stupenda veramente stupenda bella 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 devo provare adesso la nuova che ho preso non mi ricordo come si chiama poi vedo qua una flawless matte di revolution forse una delle poche low cost che mi sono rimaste non è che a me non piacciono più i low cost ma non li sto più comprando semplicemente perché essendo appunto perché cosa succede quando un prodotto costa poco io comunque spendo tanto no quindi compro tanta roba il problema cari sono piena di palette quindi nella mia mente malata penso preferisco spendere 40 euro per una palette con un pack più bello più pensato ne ho una che è spendere 40 euro per prendermi 4 palette ma perché ne ho tante raga per quello perché non è che i low cost fanno schifo anzi ci sono low cost che hanno una qualità altissima veramente altissima ma se non so se c'è qualche palette in mezzo a queste o nel poi l'anno lo scorso video vabbè comunque la flawless matte questa la tengo ancora perché è una palette che uso spesso per prendere è solo matte quindi per completare altre palette poi come vedete il panna l'ho bucato quindi almeno vorrei finirlo ma ci sono tanti panna che fanno comodo e anche gli altri colori per intensificare altri look non puzza ancora nonostante sia vecchissima palette che avevo pagato 9,99 euro di revolution rimane volentieri vado un attimo a soffiarmi il nasino poi mi sono presa le salviette per fare gli swatch ma alla fine non li sto nemmeno facendo per andare veloce è sempre molto coerente va benissimo così ok quindi mettiamola lì chiediamo fuori andiamo con Too Faced che dite non voto di Too Faced perché è diventato uno dei miei brand preferiti quindi spostiamo tutto così non era mia intenzione farvi le cose in ordine ma alla fine è quello che farò non penso che ce ne siano altri mischiate qui ne ho davvero tante di Too Faced questo per farvi capire quello che cacchio mi piace il brand e pensate che alcune sono state vendute ah beh l'inquale sono state vendute eccole qua e ne ho altre raga sono sicura di averne altre natalizie in un organizzatore che vedrete poi al prossimo giro eccole qua sono queste qui allora palettina che era la porta che vi ho fatto vedere nello scorso video che c'era la palette che vi ho detto questa è uscita col tettuccio con la parte viso e la parte con i glitter questa era la porta con i glitter bellissima palette che però non ho praticamente toccato cioè sì l'ho toccata solo una volta e gli altri forse l'ho solo sbocciati perché non uso più glitter raga però mi dispiace darla via quindi no rimane assolutamente poi Chocolate Gold anche questo è stato un regalo della mia amica è vecchissima raga vecchissima è stupenda ma gli ombretti su di me purtroppo non durano però nonostante tutto voglio a parte che è un regalo ma poi voglio tenerla perché sono belli i colori anche se non mi durano un cacchio però tipo adesso che mi trucco per due o tre orette ci sta peccato che c'è vado a prendere i bimbi con questi ombretti cioè potrei anche farlo e fregarmelo però ultimamente mi faccio un sacco di problemi Semi Sweet prima palette in assoluto che avevo preso del brand perché andavano di moda le Chocolate Bar però all'inizio andava di moda l'altra non questa ma io quando sono andata alla Sepra ho visto Chocolate Bar era all'inizio proprio i primi tempi che mi ero approcciata al mondo del make up e quindi avevo preso questa poi ho visto i colori ho detto ma perché i colori sono diversi e poi ho capito che questa era la Semi Sweet e l'altra invece no all'inizio l'ho detestata perché questo è inutile poi alla fine ho capito che forse va usato come top coat questo blu marcissimo anche di questa avevo preso oh madonna avevo preso il dupe caramel forse caramel chocolate no chocolate caramel avevo preso il dupe dell'Air Chocolate che era stupendo e il blu li scriveva e alla fine vi dico non è male per quanto riguarda i marroni perché i marroni hanno una buona qualità per essere comunque una vecchia palette ma questi due sono inutilissimi però i marroni sono molto validi se sentite russare è quel bulldog scorreggione puzzolente che scorreggia il russo da morire poi abbiamo con cosa andiamo beh le faccio vedere per ultime però finiamo con le chocolate chocolate bonbons questa l'avevo messa in vendita e la rimetto in vendita carinissima raga carinissima presa perché l'avevo trovata forse a 35 euro 38 euro non ricordo ma l'ho usata una volta non mi ha convinto poi odio queste cialde con i cuoricini perché fai fatica con i pennelli non lo so poi mi danno fastidio i marroni sono carini Ares puoi smetterlo di russare per favore che ci disturbi i rosa su di me non si vedono l'ho messa in vendita non me l'ha calcolata nessuno provo a rimetterla in vendita è carina da collezione ma è uno spreco è nuovo l'ho acquistata quando l'ho presa un anno e mezzo fa sì perché non è che l'ho presa tantissimo tempo fa l'ho presa quando appunto era già uscita una bel po' e l'avevano messa in saldo profuma di cacao l'avrò usata l'ho usata una volta non mi era piaciuta poi ho detto no vabbè riproviamola visto che molte la amano e l'avrò usata forse altre due volte ma non mi piace raga non mi piace non riesco a farmela piacere quindi via cioè speriamo che vada via Better Than Chocolate questa uscita di recente di recente cosa vuol dire l'anno scorso ma comunque è vicino a un Natale carissima usata poco ma l'ho usata non so se non l'ho mai usata l'ho usata solo una volta perché l'ho acquisata sì l'anno scorso sono i soliti colorini dovrei tirarla un po' fuori questa rimane assolutamente perché è praticamente nuova mi sembra strano che non l'ho usata sì forse l'ho usata una volta per il marrone oddio non lo so mi sembra un po' in tonza comunque questa la tengo è che purtroppo Too Faced fa uscire ultimamente sempre i soliti colori cioè perché perché oramai le ha già fatti uscire tutti ovviamente quindi che altro può fare se non ripetersi poi magari cambiano di mezza 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 tonalità cinnamon swirl bellissima anche questa anche se ero tentata nel venderla perché soliti colori però usando la raga non riesco a darla via perché bellissima la qualità è stupenda e poi hanno quasi tutte profumazioni diverse quella che è uscita per lo scorso Natale quindi il Natale che è passato non l'ho comprata perché ho detto oh me la buttano così al 50% o lascio perdere perché sono sempre i soliti colori il pecca alla fine è sempre il solito quindi lasciamo perdere Punkin Spice ma io per caso sono una collezionista no figurati meravigliosa bellissima stupenda anche se ha qualcosa in meno rispetto a queste due che vi faccio vedere dopo questo verde oliva mi piace un botto trovo che rispetto alle altre due come vi ho appena detto credo me lo sto inventando ha comunque una qualità leggermente più basse ma anche quella ha una qualità ottima vabbè rimanendo in tema a limit edition andiamo con queste due ginger extra gingerbread extra spicy fantastica raga bellissima anche questa sì l'ho usata non tantissimo visto che ce l'ho da tre anni quattro non lo so però non ce la faccio dalle via perché sono bellissime gingerbread spice che è quella uscita l'anno prima e shenny sì ok ma lo sentite come russa ma è fastidioso perché deve disturbare il nostro video tarchino 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 non si sente eccolo qua raga se ve lo stai state per dire eh ma è normale che russa tutti i bulldog francesi sì lo so già raga purtroppo i bulldog francesi gli inglesi hanno il naso schiacciato quindi quindi purtroppo russano come disperati e vabbè sono anche molto delicati comunque come cani e poi chocolate bar questa l'ho presa dopo tanti anni che è uscita ce l'ho acquistata anche questa questa l'ho uscita l'ho comprata insieme alla bonbons e quindi forse un anno e mezzo fa o due anni fa esagerando anche questa l'avevo presa 35 38 euro non ricordo ehm allora guardandola così mi annoia la vorrei vendere però a volte mi viene da prenderla per ehm i marroncini perché sono molto leggeri i satinati sono molto leggeri però molto eleganti devo dire il vero però non lo so mh il profumo è stupendo la vorrei vendere scusate raga io continuo a essere una freddata la vorrei vendere vista così devo dirvi il vero però da una parte è carina ma non penso che poi mi verrebbe da ricomprarla sinceramente provo a vendere anche questa mh ma si perché alla fine sono sempre i sogni piccolori cioè proviamo e cos'altro abbiamo lo stesso formato pumpkin spice second slice questa pure all'inizio la volevo vendere che è praticamente simile vedete ho uscito prima questa poi hanno fatto uscire ma che cacchio c'è già una zanzara eccola qui il pack è diverso perché questo è incartonato al posto di essere in latta i colori non sono nulla di che sono molto simili però anche questi raga mi piacciono tanto quindi però vedete che si ripetono anche questo l'ho visto anche in altre palette sempre di Too Faced non lo so magari la tengo ancora quest'anno che tanto alla fine per me è nuova ce l'ho comprata due anni fa forse vediamo se nel prossimo decluttering sarà sarà mandata via Sweet Peach palette che io ho usato tantissimo e che continuo ad usare in tutte le primavere e l'estate nonostante l'ho usato tantissimo non sembra però vi assicuro che così uso tantissimo la parte di cui si pesca e del verde palette bellissima continua a profumare di pesca anche questa l'ho comprata dopo un paio di anni che è uscita e perché l'avevo sbocciata in negozio non scriveva però evidentemente era un tester lì aperto da chissà quanto tempo è bellissima raga mi piace tantissimo nonostante i colori non siano un pugno nell'occhio sono belli belli delicati come dico sempre eleganti super burrosi c'è un gioiellino sta palette per me poi italian spritz questa presa quando è uscita l'anno scorso questa presa l'anno scorso stupenda bella 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 qua Too Faced si è data un po' forse più da fare sono colori che non avevo visto nelle altre palette molto particolari ho fatto due o tre look bellina è bellina come palette non è nulla di che ma i colori sono particolari bella ma come fate a non amare c'è Too Faced raga a fai pack molto carini profumazioni stupendici io amo le cose profumate quindi mi vogliono abbiamo poi la The Natural Nudes presa così tanto per ma ho detto figura di se mi piace soliti nude poi come sono messe le cialde non è che mi piace più di tanto alla fine è stupenda raga l'ho usata una volta ho detto wow cioè ma cosa non è raga è bellissima 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 avete questa non vi serve nient'altro se vi piacciono i nude perché abbiamo i matt abbiamo gli shimmer che sono bellissimi è bella raga bella 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 talmente tanto bella e con una qualità ottima anche questa comunque profuma che l'anno dopo hanno fatto uscire la stripped e che fai non te la prendi ma certo che la prendo per l'estate per l'estate comunque anche tutto l'anno perché non sono colori che si usano solo in estate diciamo la verità e anche questa ha una qualità meravigliosa bellissima raga e stupenda ma quanto sono belle queste palette ma io vi amo vi amo come faccio a liberarmi di voi poi è incartonato cioè si piega è bella è maneggevole poi dopo ne ho quattro piccoline salted caramel eeeh queste le ho prese perché le ho trovate in saldo e non peraltro se no non le avrei prese sono carine però io le palette piccole raramente le uso perché a me mi piace proprio prendere i bei pack grossi quando mi vado a truccare e queste così piccoline utili si da viaggio ma per quello che sto viaggiando io adesso ok comunque bellissima palette qualità ottima burrosi super luminosi quelli luminosi durano tutto il giorno wow major love acquistata qualche mese fa sul sito di Too Faced l'ho pagata penso 17 euro o 12 comunque era in saldo l'ho usata forse due o tre volte bellissima anche questa stessa qualità mi dispiace non farvi swatch raga ma siamo solo a 33 minuti e mancano ancora tutte quelle quindi piuttosto se vi interessa qualcosa me lo dite facciamo un video a parte shake your palm palms prima palette che ho acquistato di questo formato bellissima a parte la profumazione che ora me la sniffo di nuovo che non capisco di cos'è bella 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 palette acquistata anche questa qualche mese fa la secret santa non so se è di questo natale o dello scorso natale che però io ho acquistato quando la volevano cioè la volevano quando l'hanno messa in svendita perché forse non se l'è cagata nessuno perché ne avevano tante non ho idea comunque l'ho comprata poi molto dopo volevo vedere se l'avevo usata no forse non l'ho mai usata presa probabilmente sì perché l'avevo trovata in saldo ma non l'ho mai usata quindi la uso o la metto in vendita non lo so perché alla fine sì la qualità sarà sicuramente ottima ma non se si colori vorrei tanto due cialli però questi però no provo a venderla ripetitiva sì lo so va bene ma ve lo ripeto se le rivedrete poi in un altro video perché non se le è prese nessuno e non ho intenzione di svenderle ok due palette che avevo messo in vendita sono queste qua di Too Faced e poi non mi ricordo se avevo cambiato idea ho tolto l'annuncio o cosa non ho idea abbiamo sono della fanno parte della collezione tutti i frutti la Razzle Dayzle Berry sempre se si dice così vi ricordo non sono anglosassone sono una capra in English quindi perdonatemi questi due colori sono molto particolari però so viola raga so viola che bello di cappare so viola provo a venderla di nuovo questa la Sparkling Pineapple questa è stupenda e questa penso che la tengo infatti se vedete l'ho usata di più soprattutto l'oro a parte che questi come mettete il dito a fonda cioè sembra tipo un mochi quindi sembra tantissimo usata ma non penso di averla usata più di tanto se non forse 4-5 volte però questa la la tengo anche perché è benché scavato l'oro quindi teniamola poi se proprio vedo che non la uso vabbè proverò a rivenderla però per ora teniamola poi andiamo con le cutie di Nabla assolutamente le tengo perché sono bellissime stupende magnifiche acquistate tutte quando l'ho trovata al 40% o al 50% comunque ne avevo presa una avevo preso su Pink Panda perché l'avevo trovata al 70% la Coral quindi l'ho presa così ho detto ma si pagandola al 70% cacchio cioè proviamola mi sono innamorata delle polveri la qualità veramente raga è ottima non sono palette complete perché manca il panna o in alcune palette manca un matte per intensificare per la piega eccetera eccetera però sono bellissimi questi colori sono la fine del mondo quindi hanno proprio una texture stratosferica allora mi sono iscritta sul sito di Nabla appena ho visto che avevano messo lo sconto ma non mi ricordo come vi ho detto se al 40% o al 50% ho deciso di comprarle tutte e vi dico la verità non mi so pentita perché sono tutte bellissime quella era la Coral questa è la Whiteberry non so se me ne sono perse altre non ho idea perché carinissimi comunque ve le faccio vedere molto molto velocemente aspettate che volevo alzare un po' la luminosità potevo alzarla anche prima io furba sono morbidissimi cioè gli ombretti matt pure sono burro raga sono burro si sfumano super pigmentati non fanno macchia belli cioè mi piace proprio toccarli raga Metropolitan poi vabbè i pecchi veramente sono stupendi questa l'ho usata forse solo una volta però non mi abbandoneranno mai mai raga mai 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 poi abbiamo se riesco a chiuderlo la Platinum che stupenda questo c'ha un argento dentro che è una roba fenomenale cioè io non ho mai visto un argento così bello bellissima raga stupenda questa l'ho usata solo una volta è meravigliosa vedete che non sono palette complete quindi dovete per forza attingere ad altro a meno che non volete mettere un bello shimmer luminoso su tutta la palpebra mascara e via se no dovete per forza attingere ad altre palette ma se avete ad esempio la side by side potete usare quella poi abbiamo la midnight questa è quella che mi ha leggermente deluso perché scrive tantissimo è bellissima raga è meravigliosa il problema è che questi blu su di me questo questo sicuro questo non mi ricordo vedo che l'ho usato ma non me lo ricordo questo sono sicura mi fa l'ho messo sulla palpebra si è attaccato tutto mi ha fatto effetto caccolina dopo un'oretta nonostante la formula sembra più o meno la stessa degli altri ma mi ha fatto effetto caccolina non mi è durato quindi devo provare magari di usarlo con la colla non lo so però non me la sento per ora di darla via voglio testare bene gli altri colori e magari provare a cambiare primer e vedere questo peccato perché era veramente un bel colore cioè raga è stupendo 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 abbiamo la nude che vista così sembra la palette più inutile in effetti per i colori è abbastanza inutile ma abbiamo anche qua dei colori luminosi stupendi non abbiamo però matte sono tutti satinati quindi palette che potrebbe essere un plus ma quanto sono belle ragazze palettes cioè io ho iniziato a non amare Nabla ok perché la dream dream come si chiama non mi durava e poi ci ha fatto uscire delle chicche ok forse è solo un problema di di texture delle polveri che alcune vanno bene su di me altre vanno bene su di altre infatti so che tante non si sono trovate non si sono trovate bene invece con queste polveri io invece sì quindi va bene la analog non so se questa l'ho usata sì ok ho usato questa parte qui anche questa top e yeah non ho mai acquistato ombretti singoli di Nabla perché cioè magari sì sono stupendi ma non mi trovo ad usare le palette magnetiche quindi non ha senso comprarle andiamo con Urban Decay ho smesso di comprare le Naked perché boh mi annoiano questi pack sono molto noiosi diciamo la verità ah non avevo un'altra di Too Faced non avevo altre due di Too Faced vabbè oramai ve le faccio vedere dopo palette che ho acquistato su Vinted sono queste due la The Tour e la Shortcut l'avevo prese perché ne erano uscite tre o quattro mi pare le volevo siccome la qualità della Born to Run a me mi è sempre piaciuta l'ho voluto comprare la The Tour era praticamente non so se c'era stato un colore sbocciato oppure era semplicemente un po' così perché questo mi sembrava come se fosse stato un po' toccato sopra però gli altri erano tutti nuovi è una palette raga che ho usato due volte da quando l'ho acquistata ma devo dirvi la verità non taglina sì ma mi serve effettivamente no raga cioè sono piena di marroni quindi questa la rivendo poi c'è questa qui come vi ho detto la Shortcut che non so se l'ho mai usata o l'ho usata una volta non lo so cioè io faccio questi acquisti forse l'ho usata una volta mi pare di vedere non lo so non mi serve gli altri sembrano tutti nuovi tranne questo perché vabbè io quando mi vado a truccare non è che sto alla scavare quindi però non lo so comunque questa è già un po' più sulle mie corde ma si colori le ho già in altre parti cioè in altre parti da altre parti quindi anche se questo mi ispira parecchio no provo anche questa a metterla in vendita magari con la cosa che sono anche forse fuori produzione dovrei anche riuscire a venderle facilmente Sun Vibes avevo anche la mini Sun Vibes che ho già venduto e questa la volevo rivendere cioè la volevo rivendere la volevo vendere non l'avevo già venduta perché si era carina all'inizio mi piaceva tanto ma ad oggi questi colori su di me non mi fanno più impazzire quindi non lo so carina l'ho usata parecchio questa devo dire il vero l'ho usata parecchio adesso vado a vedere quanto costa ma non mi ricordo quanto costa penso che la venderò a 15 massimo 20 devo vedere quanto costa come vi ho detto se costa più di 50 la metto a 20 se non la metto a 15 sotto i 15 non scendo l'avevo già messa in vendita e su Vinted ma non me l'hanno calcolata poi ne chiede tre palette che avrei venduto volentieri se non fosse che mi era si era suicidato un colore questo qui perché come ho comprato la palette forse mi avevano venduto una palette vecchia probabile perché erano tutti scollati con la marcia sotto è vecchissima avevo acquistato questa palette insieme alla chocolate semi sweet quindi vi parlo di 8 barra 9 anni fa se non 10 vecchissima raga però ultimamente la usacchio non mi sta dando problemi quindi vabbè la tengo anche perché a parte che è super datata cosa voglio vendere cioè non voglio recare danni a qualcuno nonostante vi ho detto che a me non mi sta dando problemi poi manca un ombretto cioè no manca quindi questa rimane naked uno la signora naked me l'ha comprata la mia amica l'anno prima che la mettessero fuori produzione cacchio raga ma cosa ha fatto Urban Decay ma perché l'ha fatta uscire cioè nel senso perché l'ha tolta dalla produzione miseria cioè è bellissima la qualità è ottima è stupenda è fantastica cioè ma assolutamente la deve far uscire io ho pensato o l'ha fatta fuori per un po' cioè perché oramai comunque sta palette ce l'avevano tutte cioè se la facevano uscire anche dalle orecchie quindi magari non la comprava più nessuno quindi hanno deciso di sospendere per un po' e magari fra qualche anno la ritireranno fuori io lo spero perché è stupenda raga c'è gente che l'ha comprata tre volte raga tre volte è bellissimo ma c'è questo grigio che è stupendo è un grigio sbocciato sembra futuristico anche sull'occhio bellissimo ha queste cangianze tipo anche argento è bellissimo meraviglioso ma anche gli altri sono stupendi unica pecca secondo me di questa palette è che vabbè questo è abbastanza inutilino io avrei magari tolto uno di questi due marroncini e avrei messo un marrone scuro matte per il resto è una palette completissima è bellissima bella 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 mi piace tanto usarla l'usata di recente fantastica veramente fantastica raga non so se vi ricordate all'inizio Urban Decay faceva uscire le palette con la mini taglia del primer adesso invece hanno alzato il prezzo delle palette figurati se vi regalano più il primer non sia mai andatevela a comprare vabbè Naked Cherry sta diventando lunghissimo questo video perché io mi perdo sempre a parlare cioè di cose che magari non ve ne frega manco niente ok Naked Cherry bella boh qua ho voluto lasciare il pennello chissà come mai carina molto carina palette che mi ritrovo spesso ad usare anche se non mi fanno impazzire si i colori però boh così la uso a volte quindi va bene Naked Hit è stata la mia palette preferita per un intero anno raga bellissima nonostante questi colori purtroppo hanno il difetto di mischiarsi fra di loro cioè danno vita a un nuovo colore si mischiano non sono più differenti poi sulla palpebra diventano un tutt'uno però molto carina l'ho usata davvero tantissimo poi cosa ha visto sto cartone ma perché ma cosa gli è successo va bene abbiamo la Naked Reload quella che dicono si è uscita al posto della Naked 1 perché ha preso il posto della Naked 1 ma raga secondo me è una cazzata perché non ci azzecca niente con la prima secondo me la qualità migliore è della Naked 1 e i colori sono diversi quindi raga non prendiamoci in giro palette che ho messo in vendita un bel po' di volte e poi alla fine ho cambiato idea perché questi colori sono molto belli quindi li tengo per questi potrei si venderla però questi due colori sono molto carini quindi 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 non lo so non lo so vabbè per ora la tengo poi vediamo ma perché questo cartone così marcio ha visto le mani di Umbrella oppure si è solo schiacciato col peso delle altre non lo so Urban Decay Cyber presa in un cofanetto al 50% sul look fantastic due anni fa un anno e mezzo fa non ricordo il pack ma noia a morte non so voi non è piaciuta a tante a me sinceramente non dispiace soprattutto con una colla o come top coat è molto carina questo è super pigmentato è molto molto carina però non mi viene da usarla quindi provo a dare via anche questa sperando non cadano le palette perché sto dando via più palette di quello che pensavo cioè rispetto allo scorso video palette o lei presa perché ero in fissa con gli oro la qualità è stratosferita ultimamente gli oro mi annoiano però non la voglio dar via perché bellissima la pigmentazione è stupenda matte super sfumabili super pigmentati bla 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 poi magari fra un po' ritornerò in fissa con loro non lo so però è stupenda la qualità è ottima per essere di Durban magnifica naked wild west questa presa solo perché l'avevo trovata in saldo perché in sei colori non è mi ispirano più di tanto l'ho usata forse la scorsa settimana per questi marroni stupenda la tengo madonna come tela russia adesso poi tornando a to face teddy bear molto carina ma mi ha deluso parecchio perché non me l'aspettavo così piccola se riesco a che cacchi ti sei incollata che ti sei incollata ogni tanto mi viene un po' la cadenza sicula eccola che poi non so siciliana mia mamma è calabrese ma siamo lì reggio Calabria teddy bear non me l'aspettavo così piccolina però è carinissima ma guardate il mio polpastrello cavolo cioè miseria però è buona come qualità quindi per ora rimani per ora ti chiudo dopo miseria o ti chiudo adesso che se no mi infastilisco ti chiudo adesso proviamoci almeno ok cinnamon beer set uscito questo con la pochette è un rossetto un melted mi pare ma se è abbassato il cellulare lo sto vedendo male io in sé molto noiosetta in pratica però ha una qualità ottima stupenda magnifica bella la tengo poi andiamo con queste piccoline abbiamo Uda Beauty due di Mulac Tarte ma di tante di queste me ne manca una ma dove si è nascosta volete vedere che me l'hanno toccata i bimbi perché me ne manca una ed è caduta vado a vedere ma io mi drogo raga ce l'avevo sotto queste va bene ok allora andiamo con le più inutili Scorpion Sting di BH Cosmetics totalmente nuova mai sbocciata vi avevo già parlato di questa palette non so se darla via alla fine raga boh penso che manco la provo l'avendo così vedete che è ancora chiusa Ghost Pepper questa l'ho usata invece non me la ricordo carinissima non si vedrà mai non mi ricordo se mi è piaciuto o meno sinceramente ma già il fatto che non mi ricordo è perché non mi ha stupito più di tanto quindi provo a darvi anche questo poi color block di Huda Beauty palette totalmente nuova mi è arrivata lo scorso mese mi pare quando no o lo scorso mese o due mesi fa vi ricordate che avevo acquistato la paletta al 50% di Huda come si chiama vabbè non me la ricordo avevo preso anche questa perché l'avevo trovata a 9 euro solo per quello da una parte sono sì curiosa di sbocciarla però d'altra parte già questo mi infastidisce perché messo così poi sono viola cioè questo sembra molto particolare ma penso che prova a vendere vabbè l'ho pagata 9 euro raga se riesco a guadagnarci qualcosina in più bene e vai giù cioè io ti compro perché boh perché sono scema evidentemente poi ho altre tre piccoline di Huda che invece rimangono con me la Ricce tutte prese con dei cofanetti scontati dopo le feste di Natale molto 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 carina ha già colori più sulle mie corte e quindi rimane la qualità di queste polveri tutti dicono miei quelle di Huda sono stupende le piccole meravigliose raga non so niente di che per me cioè di carine ma nulla di che caramel brown questa è più sull'aranciato quindi questa si avvicina ancora di più a me senza che mi cadi magari e poi c'è la medium la nude medium quest'anno ho visto che c'erano i set con le palette matte nude matte non so comunque quelle matte ma è matte dai che noia ancora tutte palette matte ma anche no quest'anno l'ho mai usata potrei anche venderla ma per ora per ora la tengo ma è nuova due di mulac abbiamo la cali lasciati hanno una qualità stratosferica l'avevo pagate con i saldi il problema quando mi è arrivata sta palette era già così mezza verde mezza marcia io comunque questi glitter li ho usati lo stesso anche se sono diventati così sono bellissimi però me l'hanno venduta grava ed era vecchia va bene era in saldo quindi però cacchio però è molto carina quindi la tengo principalmente per questo glitter marcio ma dovrei mettermi lì con la cosa devo usarlo devo usarlo prima che diventa tutto marcio comunque buona palette poi non posso vendere una palette questo stato abbiamo la sciva tutta blu anche qua abbiamo un argento stupendo l'oro nonostante non è poi così tanto oro è molto saturo è bellissimo anche questo colore che non riesco ad escrivere è stupendo e i matte sono stupendi poi abbiamo due palettine di Tarte mai usate acquistate perché c'era una cosa sul sito di Tarte statunitense che praticamente con 69 euro potevate crearvi un'intera pochette quindi io mi sono fatta praticamente con 139 arropondiamo 140 euro perché mi sono fatta due pochette e potevate mettere da tutto dal primer viso primer occhi palette maschera cioè tutto quello che vi serviva per un look completo partendo appunto dal viso agli occhi labbra eccetera eccetera e quindi c'erano varie palette e io avevo scelto queste due ma alla fine non le ho mai usate perché volevo provare più che altro i prodotti viso quindi correttori fondotinta che sono ancora nuovi acquistati l'anno scorso mi pare ma non ho mai usato le palettine abbiamo la gleamazon che si chiama così eccola così che sembra usata ma non è usata ragazzi è mai arrivata così c'ha questi pezzetti qui c'è di prodotto forse un difetto di come hanno messo la cosa non lo so profuma di cacao buonissima però però c'è da una parte vorrei tenerle perché sono piccoline comodine da portare dietro la qualità di e-tart si sa è stupenda ma sono nuove ragazzi non fa uno spreco tenerle qua vedendo che tanto non mi ritrovo mai ad usare palette piccole e non tantissime e poi abbiamo la tropic quindi sono un po' così in conflitto se venderle o tenerle perché sono molto carina anche questa vedete che è difettosa così ha dei grumi di prodotto sopra che è solo la polvere però è fatta un po' male ma sono nuovissime non lo so solo che ho paura che magari la vendo poi dicono ma mi è venduta usata perché è un po' così bruttina quindi non so cosa fare non lo so non le tengo tanto non occupano spazio per un peccato se non fosse che le cialde sono un po' così bruttine le venderei meno che qualcuna di voi non le vuole comprare in quel caso ok perché un altro ovviamente guarda foto su Vinted la pregatura c'è sempre cosa che ho avuto anche io quindi ok poi abbiamo tre piccole di Natasha Denona minchia siamo a un'ora di video la mini metropolis palette volevo la grande non sono riuscita a trovarla ce l'avevo trovata quando costava un rene che non ho mai voluto prendere bellissima mini love eccola qua questa non l'ho mai usata tanto per cambiare e poi la mini zendo palette che è stata la prima la primia la prima palette minico acquistato stupenda ci ho fatto cinque look perché nonostante sono pochi ombretti potete fare davvero tantissimi look poi beauty glazed palette acquistata così perché mi piaceva tantissimo il pack che potete giocare tantissimo con i colori vediamo se riesco a tenerle così si aprono così a foglia abbiamo l'arancio i viola i verdi i blu ma l'ho usata veramente poco 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 ha i glitter quindi è per quello che i glitter mi vogliono se non proverei a venderla la tengo dai tanto l'ho pagata 17 euro forse mi sembra o 19 non ricordo ma tanti tanti ombretti poi palette di Nars che ho messo in vendita e quindi cavolo si è scollato il cartone ma dai vabbè magari a molte non interessa il cartone la cool crash io avevo due palette di Nars la skin che sono riuscita a già vendere e questa qui qual è il problema di Nars che su di me le polveri non durano la pigmentazione non mi fa impazzire questi satinatini sono molto delicati su di me non si vedono non durano non lo so non mi piace quindi preferisco venderla cavolo che il cartone si è scollato miseria ah ho dimenticato di mettere questo ne sto dando tantissime via poi di Tarte abbiamo sempre la Tarte Light Toasted queste le ho prese io avevo le tre mini non so se vi dico quelle che ho venduto e di recente ho venduto l'ultima che erano tre palette uscite in un set poi sul sito di Sephora c'era la cosa che se ne acquistavi una te ne regalavano un'altra quindi ho preso questa e mi hanno regalato questa viceversa e ho venduto le altre perché i colori erano più o meno simili solo per quello perché la qualità era buonissima anche di quella palette bellissima stupenda nulla da dire anche queste profumano di cacao mi mancava l'altra che però aveva quei colori un po' neutrini inutilini e ho lasciato perdere questa è la Tartlet in Bloom vedete che quelle piccoline bene o male sono inutili perché tanto c'ho queste grandi che sono più complete a me Tarte è lì Tarte Too Faced ciavone Too Faced ha tutte profumi palette con pack meravigliosi Tarte invece profumo le palette sono più eleganti il pack di Tarte più elegante ho detto Too Faced ogni Tarte più elegante ma la qualità è imbattibile avevo acquistato la Party in Puerto Rico sempre di BH Cosmetics perché volevo provarla ancora nuova non so se vedete anche se la qualità è ottima penso di comprare altre palette di BH Cosmetics no ce l'ho presa così per curiosità perché volevo provare le polveri siccome le polveri viso di questa collezione mi fanno tantissimo gola mi piacciono tantissimo le uso e le strauso però non lo so sono un po' in conflitto raga se questa provarla a vendere visto che è nuova o tenerla c'è questa parte qua mi ispira tantissimo però non lo so proviamo a venderla che dite ci proviamo ovviamente in tutte queste raga io adesso guardo di nuovo i prezzi e in base tirerò le somme se è nuova ovvio non la metto al 50% se la comprano bene se no amen se è usata ovvio si poi palette che volevo dare via ma che purtroppo mi è arrivata con un colore marcio è la Freak Show di Mulac non mi è mai piaciuta il blu sembra strausato ma in realtà no raga perché fa schifo cioè mi è arrivato così secco ho provato a prenderlo più volte e non scrive sembra carbone è bruciato è bruttissimo orribile non è blu non lo so quindi sembra tanto usato ma in realtà l'ho solo scavato però la palette l'ho usata due volte raga due questo colore è molto carino questo sì carino è matte ma questi due glitter non l'ho mai provati il blu è una merda raga e sentite che secco lo vedete non so se si vede non è un glitter cioè non capisco questa quindi sì l'avrei voluta vendere ma non me la sento di vendere con quel blu lì quindi me la tengo che devo fare good vibes queste sono due palette questa e l'altra la daily mood due palette che mi erano state omaggiate se facevo un ordine mi pare di 39 o 39 o 69 non ricordo avevo in regalo una delle due palette io ho fatto due ordini lo stesso giorno così mi sono presa le palette ovviamente perché c'erano prodotti che volevo questa palette qui è carina ma vabbè a parte che si sta rovinando il cartone l'ho usata due volte ma si viola su di me non rendono quindi proverò a venderla anche se le palette magnetiche si potrebbero anche tenere o togliere gli ombretti e metterla e metterle su quelle magnetiche magari mi invoia di più ad usare i colori io provo a vendere poi vediamo dai aspetto tipo 5 o 6 mesi se vedo che nessuno se la compra tolgo gli ombretti e ce le metto nella palette magnetica più grande queste invece è la daily mood al contrario questa mi piace tantissimo perché ha i colori proprio del fuoco raga sono dei rossi stupendi anche i satinati che non sembrano tanto rossi sull'occhio esce molto fuori questo colore caldo bellissimo mi piace da morire io sto dando via tutti viola ma qualche viola mi è rimasto vabbè penso che sulle two faced qualcosa di viola ci sia e poi volendo raga beauty beige qui c'è beauty beige beauty beige abbiamo la fieri fieri per chi si chiama prima palette di beauty beige ho comprato stupenda questa tutte le colorazioni calde meravigliosa mi piace tantissimo però io c'ho la palette che si chiama la naked it che è più o meno i colori sono similini però qua ne ha di più quindi potrei vendere una delle due ma non lo so la tengo ancora quest'anno dai perché per un fatto di prezzo preferirei tenermi la naked però qua c'è più possibilità e la qualità raga secondo me si è buona quella della del di urban ma questa secondo me la batte se esiste in modo ci siamo troppo la herty palette che uso di recente con i verdi bellissima anche se devo dirvi la verità sapete che sto mese faccio il giro palette urbani beauty bay i shimmer sono bellissimi sono tutti super luminosi ma ci sono matte che non mi piacciono perché non si sfumano bene alcuni fanno effetto macchia tipo questo verde qua che in molte palette invece pigmenta tanto si sfuma bene qua invece è un po' difficile da lavorare altri invece si sfumano benissimo ma gli shimmer sono bellissimi quindi la tengo per quello perché sono dei colori luminosi mai visti in altre palette super cremosi e non posso due palette che ho messo in vendita di zoeva abbiamo la cocoa blend comprata solo perché sul tubo ne parlavano tanto se non hai anche qua la cocoa blend non c'è nessuno perché è stupenda magnifica l'ho comprata raga l'avrò usata tre o quattro volte perché mi sono obbligata ma la qualità non è nulla di che quindi l'ho messa in vendita no anche altre due di zoeva come se in vendita non so se sono riuscita a venderlo ce l'ho altrove non ricordo la premiere questa è praticamente nuova il problema ok sì che l'ho usata credo anche questa due volte ma questo colore mi era arrivato tutto un po' sgretolatino e questo qua mi pare che mi era partito un pezzo in diretta con voi non so se si vede vi ho mostrato la palette e si è disintegrato sto pezzo quindi questo l'ho messa a 7 euro raga paletto ho usato due volte credo però vediamo e le zone mi fanno impazzire quindi ci sono anche queste dopo arriviamo alle ultime palette dopo un'ora e dieci minuti miseria vice ltd reload l'ho messa in vendita è quella che vi dicevo sono arrivata fino ai 15 euro non se l'è comprata nessuno comunque una palette che io avevo pagato 55 euro 59 non ricordo perché era una limit edition però a me non è mai piaciuta ma per svenderla già 15 euro è vero che è vecchia raga però era praticamente intonsa e ho detto sì me la tengo ok l'ho usata una volta sto mese raga mi continua a non piacere raga non mi piace proprio però ogni tanto ci provo raga finché non va male poi la butterò però che devo fare sì magari uno diceva ma sì anche se te la prendono 10 euro alla fine ci vedo 10 euro però mi scoccia raga cioè comunque è una palette con un valore so che molti fanno anche la collezione e magari aspettano proprio quello ma il cacchio me la tengo cioè con la qualità di quelle polveri 15 euro gli vale paletto che ci ho buttato quasi 60 euro vabbè palette in collaborazione con niki di niki tutorial mi pare il canale carinissimo il pack non l'ho mai usata però ho trovata al no al 60% sul sito di beautybay scusate il led non ne ho idea però la tengo poi abbiamo tre palette di beautybay no una di morfi anche questa comprata qualche mese fa su 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 Douglas sul sito di Douglas sì l'avevo presa insieme alla palette di Kylie perché non ho mai provato il brand cioè ci credete non ho mai acquistato il brand è molto carina però cioè ci sta palette carina la qualità è buona ma ho palette sicuramente migliori cioè le polveri sono becchie superate gli shimmer sono sì carini ma nulla di che l'ho usata due volte non so se tenerla devo dire il vero e provare altri colori o provare a rivenderla è molto carina molto carina però è anche tanto grande rada provo a venderla mi aspettavo qualcosina di più dal brand devo dire il vero lì non ci sta più niente ok lasciamo qui Carnival XL Pro Palette l'avevo comprata gasatissima perché tutti dicevano mica le Carnival stupende qualità ottima eccetera eccetera l'usata non mi piaceva cioè non non lo so non mi ha mai convinto poi l'ho portata a Istanbul mi sono portata solo lei ho detto vabbè questa settimana la uso perché se non ho spreco di soldi alla fine raga mi ha fatto cambiare idea bellissima cioè non lo so alla fine forse avevo provato qualche colore che non era un granchè magari tipo questo grigino non lo so sa di fatto che poi mi è piaciuta tanto i matte nulla di che gli scimbre invece sono molto carini e poi cosa importante mi durava anche col caldo quindi ci sta poi l'hovo Tahiti e poi abbiamo finito per oggi per forza mi sa che forse dovevo ancora dividere pure cioè dovevo fare un'altra parte altro che tre video ne devo fare quattro vabbè l'hovo Tahiti quando l'ho acquistata perché questa mi era uscita con un'altra palette che forse vi ho fatto vedere nello scorso video credo perché qua non c'è vabbè ho detto la vendo così a scatola chiusa colori che non mi piacciono e poi vi ho fatto un video dei cinque look forse realizzati con la palette ho detto il cacchio che la dobbia perché è stupenda e qua abbiamo qualche viola quindi va bene i viola li ho ok le palette per ora sono finite qua come si stanno tutti i cartoni contiamo le palette che ho deciso di dar via una due tre quattro cinque sei sette otto nove dieci undici dodici tredici quattordici quindici sedici diciassette fra queste diciassette sono nuove una due tre quattro e cinque poi vabbè ci sono queste due che le ho usate due o tre volte però questa invece è già più usata questa pure semi nuova però vabbè totalmente nuove sono queste il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto come sempre fatemi sapere tutto quello che volete farmi sapere e un bacio